ciao a tutti oggi prepariamo dei biscottini al cocco semplicissimi da fare super veloci sono buonissime per accompagnare un caffè ingredienti 125 grammi di farina 40 grammi di farina di cocco 60 grammi di zucchero 50 grammi di burro e 50 ml di latte per i biscottini al cocco iniziate a lavorare il burro con lo zucchero poi aggiungete la farina di cocco il cocco rapè aggiunta anche la farina di cocco aggiungete la farina vera e propria e impastate sempre bene con una mano a questo punto aggiungiamo il latte impastiamo bene otterremo un composto che è già il nostro la nostra pasta per i biscotti i biscotti al cocco si portano a tavola si servono con un caffè o in un buffet di dolci e si fanno di solito molto piccolini sono più carini sono molto fragranti li lavoriamo prendiamo dei pezzetti di impasto li lavoriamo tra le mani e li sistemiamo sulla placca del forno con la carta forno sotto li mettiamo un po distanti ma questi non cresceranno molto in cottura una volta che abbiamo preparato tutti i nostri biscottini con questo impasto ne vengono circa 15 16 li mettiamo in forno forno naturalmente preriscaldato 180 gradi per 15 minuti trascorsi i primi minuti di cottura sentirete quel profumo caratteristico di cocco di biscotti di cocco in casa a questo punto aprite il forno e vedrete che la parte sotto del biscotto si è colorata mentre sopra sono rimasti belli bianchi li rigirate un attimo e fate terminare la cottura come hanno finito la cottura li tirate fuori li mettete a raffreddare e avete pronti i vostri biscottini al cocco per il caffè una ricetta semplicissima perfetta anche da fare con i bambini spero che anche questa ricetta così semplice vi sia piaciuta arrivederci alla prossima grazie grazie